Ciao, mi chiamo Giovanni e io sono Lorenzo e questo è Minus, un progetto che nasce per migliorare la navigazione all'interno della laguna veneziana. Questo perché non è sempre facile orientarsi in barca di notte o quando c'è nebbia. La scarsa illuminazione rende difficili spostamenti verso le isole lontane da Venezia, oltre che aumentare il rischio di incidenti dovuti a possibili ostacoli. Avvalendosi di un sistema di illuminazione abbinato alla tecnologia d'onde radio e ad un'applicazione dedicata, Minus è la nostra soluzione al problema. Il trasmettitore, reperibile gratuitamente nei punti vendita autorizzati, è realizzato appositamente per interagire con le nuove luci installate sulla pericola. Durante la navigazione, infatti, il dispositivo ingherà un segnale radio ai ricetrasmettitori presenti nei punti luce Minus. Questi ultimi saranno in grado di comprendere la posizione dei natanti e permettere così l'accensione dei led in modo conseguenziale. Inoltre, il dispositivo è dotato di un pulsante SOS, utile per segnalare eventuali pericoli in acqua. Anche l'applicazione Minus permetterà di effettuare segnalazioni di emergenza, oltre che ricevere informazioni meteo aggiornate e impostare una rotta seguendo i percorsi illuminati dal progetto Minus. Analizziamo ora il sistema di illuminazione. Nella parte superiore è collocato un pannello solare orientabile che garantisce l'autosufficienza energetica per tutto l'apparato elettronico. In basso è presente una fonte luminosa a LED bianchi protetta da un diffusore opale in PMMA. Subito sopra è collocato il vano tecnico in cui sono presenti tutte le componenti elettroniche indispensabili al funzionamento del sistema. Insomma, tre elementi per un unico progetto che si pone l'obiettivo di risolvere un problema complesso in modo semplice, efficace e accessibile a chiunque. Minus.